Sarà completamente sincero con te. I like what I saw here the most of all the portfolios today, so I saved the best for last. Ok, il portfolio che è specializzato chiaramente mi piacciono tutti, quindi terrà i complimenti per la fine. Ok, now, why don't you tell me a little bit about yourself. Ah, did you go to art school? What's your background as an artist? Ehm, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, e ho cominciato con il fumetto un paio di anni fa. And he started to try some comics a couple of years ago. Ok. E l'unica cosa che ho pubblicato è stata per i V-Metal, e sto ancora aspettando di avere la copia e i soldi per quello, però è stata comunque un'unica cosa che sono riuscito a pubblicare, e la prima cosa è stata negli Stati Uniti, quindi sono stato molto contento di questo. ma è stato un'unica cosa che ho pubblicato, ma è stato un'unica cosa che ho pubblicato, e questo è l'unica cosa che ho pubblicato. Quindi cosa fai ora? Il mio testo è un'unica cosa che ho pubblicato. E mi dispiace perché in realtà Dover si sta già lavorando, secondo lui, perché è un ottimo livello. No, non ho appena seriosamente. Questo, eh... Ma tutto ciò che fai, da settori, da articoli, da bambini, da background, da gente, da fai tutti i movesi su ogni panel, da ogni pagine. Il tuo di storiche si riusciva molto chiaramente, è veramente piace di farlo. Se tutto quello che fa è andare alla tuttura, ai personaggi, allo stare telling, è tutto ottimo, tutto chiaro, definito, e con molto valore di dettaglio. Mignola! Di giorni Ryan Notley mi piace un sacco. Ma se c'è un'influenza di Mignola, molti persone sono interessati a Mignola. Mike è uno dei migliori. Ma il errore che molte persone facciano è essere troppo come Mignola. Non stai facendo questo errore, stai prendendo quello che Mike fa e adattando il tuo stile. Però l'errore che commettono in tanti è quello di dire che assomigliare molto, di riprendere troppo da vicino allo stile di Mignola. Invece nel tuo caso l'hai comunque adattato al tuo... Di gesto personale. Quindi prendi la forza di Mignola nell'uso del chiaroscuro e della definizione dei personaggi, però riesci ad incorporarlo in un mondo che resta tuo e resta vivo. E' una storia in cui sto facendo sempre dei test, probabilmente sarà anche passato per una presentatrice italiana, in genere western steampunk. Ma la storia è la storia? No, no. No, no, no. Ehm... 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 Panteganante guna. Ehm... Ehm... Banta goinga in Italia! Si, si aspettava che tu gli dicessi che sei molto impegnato, che stessi già lavorando per diverse case editrici. Sì, lo che voglio vedere next, se non mi piace, è che io voglio senti un Marvel sample script, perché io voglio vedere quello che ti faccio con le Marvel characters. Perché qui abbiamo un piacere scene, un steampunk western, e qui abbiamo un'anthropo-mortiche characters. E lo che io voglio vedere è che ci sono compatibili con Marvel, è il scripto con i nostri superheroi. Quindi se puoi poter dire la storia successivamente con loro. Sì, quindi vorrebbe vederti il lavoro su dei supereroi, visto che lì ti metterà con la storia steampunk, vorrebbe vederti appunto all'opera su dei personaggi Marvel. Quindi tu adesso ti lascerà la sua mail, e se questa parte va bene. Ti verrà una sceneggiatura di prova, sulla quale fare appunto un test e tutte le pagine. Sì, forse potrebbe essere un problema è che io lavoro quasi totalmente digitale, nel senso che a volte abbozzo solo in matita, a volte invece faccio domani direttamente digitale. Ok. E... 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 E...